Vorrei fare un ingresso stralonato in questo testo e in quest'opera che di fatto mi ha un po' affascinato però è completissimo, è quasi impossibile, quindi mi limito a raccontarvelo per quanto mi è plausibile Mi fermo qui Ciao a tutti Donkey Shot Esk, direttamente, tac! Eccola qua Tanta roba, tanta roba interessantissimo Mi sono dovuto fermare più di una volta prima di partire per ricontrollare alcuni aspetti che hanno dei fuori schema che mi hanno colpito Ma, partiamo dall'inizio Di cosa stiamo parlando? Donkey Shot Esk è un gioco di narrazione, puro, di Helios Poo Della collana XV Games, collana Corti e Colti Eccole qua Un'opera NAC5 con le illustrazioni del Doré, se non sbaglio, non mi controllano De Gustave Doré, esatto, come già abbiamo visto anche nelle altre opera che abbiamo fatto di Corti e Colti Eccole qua È in bianco e nero, completamente Ed è un formato A5 di un totale di un'ottantina di pagine Ma tutto questo è completamente secondario e a noi di questo in realtà non ci interessa Questo gioco ha da che raccontarne per ore Ma andiamo sui pezzi diretti Tanto per cominciare c'è un piccolo momento in fondo in cui l'autore ci parla e ci racconta che Donkey Shot Esk nasce come un'opera che doveva basarsi su delle mappe Un'opera per quanto riguarda un concorso E infatti il gioco ha una mappa Una mappa che è diventata lentamente La faccio vedere Che è diventata in realtà alla fine fine poi una specie di conta turni Eccola qua Un conteggio di 10 turni che porta poi al turno finale Ma che cosa si gioca in Donkey Shot Esk? In Donkey Shot Esk si gioca fondamentalmente Anzi Cosa si intende per Donkey Shot Esk? Partiamo da questo Donkey Shot Esk Donkey Shot Esk Aggettivo Di atteggiamento o comportamento tanto generoso e spavaldo quanto inutile e assurdo Che per lo più ridicolo Dettato da utopistici ideali Che ricorda il personaggio di Donkey Shot o elementi del romanzo del Cervantes Donkey Shot Esk fondamentalmente è un gioco di ruolo In cui si gioca da una parte un cavaliere errante Da un'altra parte uno scudiero Nel loro continuo scontro tra visioni di un mondo Uno scontro assurdo e un'incomunicabilità talmente profonda Che a un certo punto vi direi quasi fa il giro E infatti si bada sul fatto che i due personaggi vivano e parlano completamente In due modi diversi In due mondi diversi In due relazioni differenti E cercano di interpretarsi a vicenda Di interrelazionarsi in qualche maniera ai giocatori Cercando disperatamente di arrivare in fondo alla narrazione E alla risoluzione delle singole scene Donkey Shot Esk ha delle grandissime particolarità Tra cui per esempio il numero di giocatori Da 3 a 5 giocatori Di cui ci sono tre ruoli in questo gioco Uno è il cavaliere errante Uno è lo scudiero Gli altri sono gli attori E questi ruoli non ruotano E' una delle cose che mi ha colpito in assoluto di più Di tutto il gioco So che è strano Ma è vero Cioè all'inizio del gioco Quando si comincia la sessione Il gioco è calcolato per essere Una sessione di gioco E basta Narrativo Quando comincia la sessione Del gioco Anzi me lo prendo in mano Perché ho bisogno di entrambe le mani Per raccontarvi le cose Quando comincia la sessione Ci si divide i ruoli Ma i ruoli rimangano tali Chi farà il cavaliere errante Fa il cavaliere errante Chi fa lo scudiero Fa lo scudiero Chi fa i lettori Fa i lettori Per tutta la durata E hanno dei ruoli Drammaticamente diversi Mentre lo scrittore Dalla parte Scusami Non lo stessualizzatore Lo scrittore Mentre dalla parte Lo scrittore Ha Una specie di doppio ruolo Addirittura Il cavaliere errante È il personaggio Che rappresenta Il Don Quixote Ok Qualcuno che Come regola Di base Non può Mai Mai Narrare Le cose Come sono In realtà Deve sempre Travisare Ogni singola cosa Sotto una lente Del fantastico Dell'assurdo Dello straordinario Non può Mai Essere Realistico Non può mai dire Il cavaliere scende Arriva al fiume Perché quello Non può essere Un fiume Se è il fiume Nella realtà Deve travisarlo Nell'aspetto fantastico Del mondo Della fantasia Di Don Quixote Dall'altra parte L'altro ruolo Che si va a giocare È lo scrittore Lo scrittore Ha due Importantissimi ruoli Uno Scrittore Quindi visione macro Sull'ambiente Descrizione dei luoghi Una vista A volo d'uccello Realistica Completamente Realistica Mentre invece Il cavaliere errante È completamente Soggettiva Ok È soggettivo Il punto di vista De la relazione Io vado Scendo verso Lo scrittore Ha la visione A volo d'uccello In terza persona I protagonisti Si trovano In questo momento Sulla riva Di un lago Bla 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 Ok E anche un altro ruolo Lo scrittore Lo scrittore deve Mantenere il personaggio Dello scudiero Dove vi farò vedere Come funziona Rapidamente il turno Quando il turno Passa dall'inizio Parta dalla conversazione Lo scrittore Si toglie il ruolo Dello scrittore E investe Il ruolo dello scudiero Perché è un personaggio Drammaticamente Con i piedi per terra Appoggiato al suolo Letteralmente Che ha un unico obiettivo Raccontare E parlare Dal se stesso Ma Della realtà Pragmatica Picaresca Parola bellissima Comparato grazie A quest'opera Della realtà Cioè Carne Sciccia Mangiare Roba vera Roba Frale In alcuni aspetti Gli altri ruoli Finale Sono i lettori I lettori Sono dei ruoli Stranissimi Che mi hanno colpito Affascinato E incuriosito Che devo assolutamente provare Il lettore è Come se fosse il lettore Di quest'opera Devono seguire Con estrema attenzione La narrazione Degli altri due personaggi Cioè Dello scrittore E del cavaliere Con molta attenzione Fare domande Quando le cose Non sono chiare Dare suggerimenti Ma solo se Chiedono aiuto Il cavaliere Errante E lo scrittore Interpretare le comparse Se quando si creano Le scene Vengono creare Le comparse Devono interpretare Le comparse E Valutare Le scene Il gioco è diviso Come dicevo In dieci scene Le scene hanno Una valutazione Alla fine di ogni scena Viene valutato Con un gioco Del segnalibro Bianco o nero Quale interpretazione Tra quella realistica Dello scrittore E dello scudiero E dall'altra parte Del servitore E dall'altra parte Quella del cavaliere Errante Ha convinto di più Gli scrittori Mettendo I segnalibri Nel bianco o nero Quindi Come scrittore O come cavaliere Errante Si esprime Il proprio giudizio E in base al giudizio Si crea Il punto di partenza Del setting successivo Infatti Il giocatore O nel caso del primo turno Lo scrittore Che possiede Fondamentalmente Il colore Dell'ultima scena Narra Imposta la successiva Come si imposta Una scena E quindi Come funziona un turno Il turno è estremamente semplice La composizione è chiara Si ha Il setting Cioè dove ci si trova Qual è l'ambiente Che ci circonda Ok La situazione C'è un qualcosa Di dinamico Che avviene Qualcuno che arriva E ha bisogno di qualcosa Cioè ovvero Un intervento Letteralmente Un vettore azione Su questa scena Che la muove E la porta da qualche parte In una qualunziasi direzione Ma deve essere chiaro e netto Ci deve essere Un desiderio esterno E poi parte La Narrazione Cioè ovvero Quella che si chiama Il dialogo Il Se for stato il primo turno Per esempio Lo scrittore Si avrebbe cominciato Con In questa maniera Faccio l'esempio Il lungo cavaliere errante Si trova In questo momento Sul suo Sul suo asino Accompagnato Dallo scudiero Che l'audicante Che l'accompagna In queste alte colline Ventose In una giornata Estremamente calda E bruciante Circondato da Del grano Che sta arrivando Dal punto massimo Di maturazione Setting Scena Alcuni contadini Intenti a mietere Cercano di scacciare O comunque Vorrebbero allontanare Il cavaliere errante Che di fatto Si è piazzato Nel mezzo Di uno dei campi Per poter portare avanti Il taglio Del grano Scena Dialogo E parte il dialogo A quel punto Il scrittore Veste il ruolo Dello scudiere Lo gioca Il contadino 1 Lo fa il lettore 1 Il contadino 2 Lo fa il lettore 2 Faccio un esempio E il cavaliere errante La via dal suo punto di vista Il cavaliere errante Potrebbe essere Il tipo a parlare E il cavaliere errante Quando parla Parla nel suo mondo Quindi per esempio Potrebbe trovarsi In questa selva Infinita Con queste enormi liane Che di fatto Oscurano la luce Nel mezzo a questo Quattro aborigeni Si avvicinano Con le loro armi E le loro acule Avvelenati E cercano di assaltare Il nobile cavaliere Ma tu Spostati Cosa del genere Travisare Completamente Tutto Della realtà In un altro punto di vista In un altro modo Questo è quello che poi farebbe Il cavaliere errante In questo dialogo Cominciano a parlare tra i due E si porta avanti La narrazione Quando la scena si conclude Quando il vettore azione Quando questi cantadini Se ne sono andati Hanno avuto paura Stai sconfitti Quello che si vuole La scena si conclude E i lettori Mettono i segnalibri I lettori possono mettere il segnalibro Quando vogliono Quando tutti l'hanno messo Il segnalibro La storia finisce Cioè la scena finisce Piccole variazioni A questa meccanica Di queste dieci scene Ci sono le meditazioni E i sogni Che fondamentalmente Permettono di ribaltare C'è il momento in cui È il cavaliere errante È un momento di lucidità L'unico in tutto il racconto C'è il momento in cui Il servitore È il momento di sogno assoluto È completo Dietro la luna Letteralmente va Ci sono i momenti In cui si passano i passati Quindi il passato Del cavaliere errante È narrato dallo scrittore Il passato I passati Vengano fatti vicendevolmente Per raccontare Chi siamo adesso E poi c'è questa figata Infinita dal mio punto di vista Che sono gli interludi Gli interludi Ce ne possono essere due Sono i circoli letterari In questo momento C'è un interludio Quando si crea un interludio Si spenge completamente La luce Della ribalta Sul cavaliere errante Sullo scrittore E torna tutto in mano al lettore I lettori si guardano intorno E entrano in un circolo letterario Come se si fossero incontrati Alla metà della lettura Di un libro Di questo genere Che stavano tutti quanti leggendo E cominciano a discutere Ah però bisogna mettere Il cavaliere errante Ultimamente ha fatto Delle scelte interessanti Ah sì è vero Questa sua però Sessione Per il mondo Che si trova Oltre le stelle Andrebbe un po' sviluppata Chissà cosa potrebbe dire Mi sembra che però Questa cosa possa portarlo Anche a dei rischi Piuttosto indifferenti Raccontare Parlare dell'opera Non solo suggerire In termini Tra le righe Come si vorrebbe Vederla andare avanti Mi piacerebbe Per il tempo Che lo scudiero Cercasse un po' Di avere un po' Di differenza Su questo cavaliere errante Alla fine È sempre condiscendente Invece Mi crederebbe Che fosse un po' Più di forza Nei suoi confronti E cose del genere Ecco allora Io l'avevo raccontato Un po' A fiume No? Ma se ci pensate C'è tantissima roba Fighissima Da giocare In questo gioco Non vi ho raccontato La creazione di personaggio La scelta multipla Ci sono altre cose Da mettere in campo Alcuni appunti Che ha lasciato l'autore Anche sui conflitti La morte Ma Sono interessanti Lo potete tranquillamente Vedere Leggere Il cuore Secondo me Ve l'ho espresso Se ci pensate Un attimo Questo racconto È pieno di figate Anche per il semplice fatto Che vincola La narrazione A uno stilema Cioè Io Narro In versione Solo Fantastica Eccezionale Sovratterrena Onirica Io Narro Solo Nella più completa E cruda realtà Dei fatti Senza metterci Fantasia Sovrannaturale Cosa del genere Io Non narro mai Il lettore Io partecipo A un gioco Di narrazione In cui io Non narro Ma partecipo Alla narrazione Sembra mischierata Ma è Interessantissimo Perché generalmente I ruoli cambiano Però il fatto che Il lettore Magari mi sono Scusate ragazzi Magari mi sono sbagliato Se mi sono sbagliato Su questa cosa Ditemelo Chiedo Domanda Scusa E lo rifaccio In un'altra maniera Io l'ho compreso In questa maniera E mi ha affascinato Stop Basta Tutto è qui Donkey Shot Esk Eccolo qua Si legge In una giornata Ne vale la pena Veramente bello Ok Ciao a tutti Ciao Ciao